Una cosa è certa, questo è il momento della risposta di Israele e deve essere per forza una risposta dura che prevede tutte le cose che ho elencato, perché si tratta di strategia militare, devono cingere d'assedio Gaza, devono fare un'invasione di terra, poi bisognerà vedere in che modo e quanto profonda, perché comunque è molto rischiosa, devono mettere nel conto che ci saranno forti perdite, hanno già messo nel conto che probabilmente verranno uccisi molti ostaggi, forse tutti, vedremo, quindi questo è il momento in cui Israele deve reagire, se non reagisse sarebbe un problema ancora più grande, perché sarebbe il segnale chiaro che Israele può cadere, quindi la risposta ci deve essere e deve essere così dura per questo e la storia ci dice che purtroppo i momenti sono drammatici, quando Churchill insieme gli americani decisero di bombardare Dresda e Berlino sapevano benissimo che sarebbero morti migliaia di civili e lo fecero per piegare la Germania e far finire la guerra, questo è l'orrore della guerra ma a volte è necessario. Oggi il Corriere della Sera ha scritto che il capo dei servizi segreti egiziani avrebbe telefonato a Netanyahu per dirgli guarda che attaccano, basta leggere i giornali, non c'è bisogno del capo dei servizi segreti, a maggior ragione uno Stato debole che è minacciata la sua esistenza come non mai, siamo tutti d'accordo su questo mi pare, deve reagire. Ma tu lo auspichi però, questo è il problema, io lo auspico perché mi spaventa l'idea che non reagisca, se non reagisce è la porta aperta al prossimo invasore, scusa, il protettorato mi pare una cosa un po' complicata, quando si comincia a dire che non bisogna intervenire quello è un errore gigantesco, lì c'è più dell'equidistanza, c'è addirittura l'invito a Israele alla resa, prima di tutto alla resa morale e noi sappiamo tutti che questo non è possibile, è un modo quasi per minimizzare quello che è successo.